Marcello Giordani al Sesto Senso Opera Festival con un duplice ruolo. La direzione artistica della sezione lirica è protagonista insieme ad altri cantanti per il 29. Parliamo di questo progetto nel quale ti stai spendendo nuovamente. Un progetto ambizioso, un progetto che nasce così davanti a un bicchiere di vino l'estate scorsa. Sedavamo a Taormina insieme al maestro Vessic, al maestro Gabrielli e a Umberto Sturniolo. Nasce quest'idea perché il maestro Vessic fa un esperimento dal suo iPad facendoci ascoltare la musica di Mozart e immediatamente alcune molecole di un vino o di una pasta di una cottura cambia e da qui nasce proprio quest'idea. Ma perché allora non proviamo a fare qualcosa di diverso? Abbiamo pensato di creare un'orchestra medisonus che è il suono che cura e da lì nasce poi anche il Sesto Senso. È un Sesto Senso proprio da lì c'è un work in progress. Tante eccellenze siciliane. Da lì con Umberto abbiamo cercato di creare appunto un vero festival, abbiamo lavorato sodo assieme a lui per creare delle eccellenze e l'unicum è stato proprio quello di volere le eccellenze siciliane. Quindi diciamo dalle maestranze agli artisti sono tutti siciliani ed è questa la differenza e l'orgoglio che noi possiamo gridare a voce alta che sono tutti siciliani. Perché il nostro obiettivo è proprio quello di portare avanti le eccellenze. Noi crediamo molto che la Sicilia ha bisogno di queste eccellenze, di essere riconosciuta come la Magna Grecia, come il centro del mondo. Ed è sicuramente quello che noi abbiamo l'ambizione e anche il coraggio diciamo o la spregiudicatezza di voler fare. Progetti futuri per questo Sesto Senso? Il progetto futuro. Dunque io oggi annuncerò il titolo della stagione prossima che sarà, credo che non è mai stato fatto a Taormina, annuncerò la Turandot. Con la mia partecipazione, è anche quello un titolo molto ambizioso, ma è quello che il Sesto Senso Opera Festival è nato per queste ambizioni, per questi atti di coraggio. Anche quello credo, spero che sia il 90% eccellenza siciliana. Grazie. Grazie.